Voglio dire se è giudicata la sua prestazione in giro in vita o in atta, visto che è stato il suo signore nel cambio del palco? Lui è un giocatore prettamente difensivo, quindi lo spunto che prende in attacco lo prende dalla fiducia che ha difendendo per bene, pressando il giocatore, recuperando palloni e da questo trae poi tutta la fiducia per giocare una grande partita in attacco. Fisitamente mi sento che adesso sia finalmente il giocatore? Innanzitutto ho detto che è stato molto duro all'inizio, perché durante l'estate aveva avuto comunque la pre-season in cui non aveva fatto poi le partite, sono a un livello non come quello durante il campionato, ma un pochino più basso. Lui comunque è arrivato in Italia carico, all'inizio ha dovuto lavorare tanto, ma ha sottolineato che è stato importante il lavoro dello staff tecnico che l'ha aiutato pian piano a entrare sia negli schemi, ad ambientarsi con la squadra e si stanno cominciando a vedere i risultati già adesso. Molti ragazzi hanno iniziato a lavorare tardi, lui stesso insieme a Zizi si sono arrivati praticamente, se non sbaglio, tre giorni prima della gara con Barcellona e altri solamente a praticamente inizio settembre, quindi c'è bisogno di essere pazienti, di lavorare sempre in allenamento duramente perché i risultati arriveranno, quindi bisogna essere pazienti e continuare su questa strada. Una battuta veloce sui tifosi hanno dato molta carica a questa partita, soprattutto a tenere duro nel finale quando gli avversari cercavano di tornare in partita. Ho tentato di essere aggressivo, ho voluto essere aggressivo in quel momento, ma molto del... come dire... io ho preso questi tiri qui perché i miei compagni sono stati in grado di passarmi bene la palla e i giochi sono stati eseguiti al meglio, quindi io ho potuto prendere dei tiri aperti, ero in fiducia e quindi questi tiri sono entrati. Un'ultima cosa ha marcato, Bosco, B, Ray, soprattutto però Bosco, c'è che cosa ha cercato di toglierla a Bosco, come l'aveva preparato per la parte del senso dell'Agencio? Non dirò che nulla sia difficile, ho avuto buona giusta da un team... Vabbè, lui ha sottolineato ancora che essendo un giocatore a cui piace difendere è da quello da cui parte la sua pallacanestro e per quanto riguarda Bosco, il ha detto che non voglio dire se era difficile da marcarlo, però avevamo preparato la partita insieme allo staff per limitarlo, visto che lui è un giocatore pericoloso dall'arco e ci sono riusciti facendo un ottimo lavoro di squadra.